Il tema scelto quest'anno è il cambiamento. Al via oggi Life is Change in memoria al Fabrizio Piro che sarà l'unico evento estivo dello staff live del club fotografico L'Altra Sciacca a causa delle restrizioni legate al Covid-19. Il challenge organizzato in collaborazione con Igers Agrigento è giunto alla sesta edizione. Come sempre è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi maggiorenni residenti in Italia o all'estero. La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione del proprio profilo pubblico quindi non quello privato del social network Instagram. Per partecipare è necessario pubblicare su Instagram da oggi fino al 31 ottobre foto con gli hashtag Life Memorial Piro 20 Life is Change Igers Agrigento. Quest'ultimo solo se lo scatto è stato effettuato nella provincia a cui deve essere aggiunta una didascalia che illustri il soggetto della foto e ne descrive all'attinenza il tema del cambiamento. Tra tutte le foto pervenute ne sarà dell'opera nella prossima edizione della mostra Life ed un ricordo in ceramica di sciacca quale il riconoscimento del merito per avere colto in pieno lo spirito del challenge del tema proposto sia il cambiamento. Il cambiamento è ovunque nella vita, nelle stagioni climatiche, nella vita sulla terra, nella metamorfosi della natura e degli animali, fa parte della crescita dell'uomo, del suo cammino, del suo percorso di vita. Il cambiamento può avvenire da un giorno all'altro per un trauma o un forte dolore quando rovesce e sconvolge la vita ma può anche esso stesso rappresentare il preludio di una rinascita, l'inizio di una nuova vita. Negli ultimi mesi la pandemia legata al covid-19 ha costretto tutti a cambiare drasticamente e forzatamente le abitudini di vita, modificando i comportamenti anche nelle sfumature più intime e nei rapporti sociali.